Andiamo Tutta Tanti Ma tu Non c'è il tuo figlio Stai a te dar la volta 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 E' certo che è, ma dai Stai a te dar la volta Stai a te dar la volta Stai a te dar la volta Cattolino Guarda Stai a te dar la volta Stai a te dar la volta Guarda Guarda Qui Si Non Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 Roc'è. Sì. 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 sta qua dentro, sta qua sopra la casa ragazzi sta qua dentro sta dando la vuelta all'altro lato basta tipo all'altro lato ecco, munizione questo è per il mio amico a dietro, a dietro ok 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 grazie a tutti c'è un po' di più e' già hace una settimana che l'equipo qual'equipo? ah il QT blocchi a tutti per non mi moleste usa questa roba per calmare il dolore e' già un po' di più e' già un po' di più e' già un po' di più ok ci siamo oh no no che rolio non te li apportiamo E' un uomo a terra! E' un uomo a terra! E' un uomo a terra! BContive! C此, c'è! Intento! Viene, viene là. Ange de ser! Escappa, lectern! 3, 1, la lectern! o devi aspettare qualche secondo sei pronto leccele? sei pronto leccele? sei pronto leccele? mi ha accortellato ragazzi ho sbagliato dobbiamo armare qualcuno armi qualcuno armi ci mancano 3 libera armare carica piazzata tenete lontani i nemizi merda sono a secco ricarico no 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 abbiamo armato nooo male lì c'è una cortellata da dietro libera ora sei come l'uomo vai hai già mai crescendo? arriva la vendetta oh mamma ricco ecco va alza uomo a terra spostiamoci l'obiettivo asco è nostro evviva buona ehi bentornato amico vieni vai vicino ricarico copritemi il medico qui qui lupo 2 i due lupini sono nostri raggiungiamo la prossima base chiudo ma che spettare che spettare montando vieni vuoi dire guardare dietro sicuro vieni a me guardare dietro ma che casa dietro lo sai che lo chiamo così Ehi, non mi piace, non mi piace, non mi piace. Mi piace, non mi piace. Ehi, noi facciamo una cosa. Tu stas con il medico, ehi, ehi, io sono venuto con il smai, ma le faccio come carnada, e io le faccio coleteare, e voi le scorta, ok? Con la batteria, si. Evo a lei. Ehi, provo il cadavro. Ehi, provo il cadavro. Ok. 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 su quattro dietro, ma hai quattro eh, pure il gandhi, un rosicone gandhi, poi lo spara, dopo un tre cortelli spara si, no, forse è 300, boh, pensore cinetico lanzato, ah si, attraggio attraggio Ehi, usa questa roba per calmare il dolore Nooo, non era il che voleva Wildy? Onde sta? Ma c'è Wildy? Wildy che c'è? Sto riuscendo la granina è andato via Quando vengono massacrati nessuno viene sono dietro ma come in cazzo sono dietro beh prima non avevi un gran bell'aspetto ma ora sei a posto rincarico copritemi tieni medicina nooo attenzione dietro c'è un altro nooo arriva no 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 Il live contro Il live contro Il sensore cinetico trasmette Il sensore cinetico trasmette Aaaaaah Fischai bomb Hit medico, qui Buona sana, ok Grazie Grazie Appellateli Grazie 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 Ah Unic barica Soltato a terra! Uy Soltato a terra! Ripeto soldi Saliò un po' tra del macchino Somma Dobbiamo vincere una battaglia Andiamo Copritemi! Sto ricaricando! Granata via! Granata! Granata via! Figliate questa! Granata! Mi spara da sotto! Uccidiamoli! 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 Qualcuno Tieni! Alguien Tiene il semifillo No! Stiamo subendo parte! Ma è nale! Beh... Prima non avevi un gran bel aspetto Ma ora sei a punto! Andiamo! Non c'è molto salvato, è rimasto fermo, non riuscivo a scappare. Chi era? Il villano è rimasto fermo. Non c'è chi trova. Non c'è chi trova. Ho dell'evoluzione. Non c'è quando lo arrivi. Ok, cuidado. Diestro, diestro, mira. Si, muerto, muerto. Aguantete i bersagli! Ok. Mira giusto, cazzo! Libera! Coraggio, stai bene. Torna sul campo. Copritemi, sto ricaricando! Cazzo, uomo a terra! C'è un uomo a terra! C'è un uomo a terra! Come va, vabbè. Vabbè, vabbè. Retrocedendo, sempre, sempre retrocedendo. Vabbè, vabbè. Geek medico, qui! Ehi, bentornato, amico! Arrivo, arrivo, arrivo! and vabbè. Ingeko, libera! Ego gam. Ego figment. E' un altro! E' un altro! Uhhh che scherzo, è andato via, quando sono 4 contro 1 rimangono, l'altra vista stava Non si la paria non si può, sempre assenso Si, però se si jugava 4 contro 1 rimangono Non si può No, sono anche percibili, l'altro giorno io stava giugando con un altro, e i 4 rimangono E non li lasciarono Stava suscesto a partela per me come è l'amichetto Will, l'amichetto Will di che si è andato? ma battano il messicoso, come si chiama? il storico, mi rimasta questo non lo vedo più al dietro dove? non mi ha dato il corte sicuramente però ti? non mi ha dato il corte dove? dietro 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 dietro! Ricordati di me Sì sì, non sapevo. Non sapevo. Grazie. E ciò mi ha. E nonno, non mi ha. Basta a gol. Dio spagano. Pristapano. Sì, non mi ha. Sì, non mi ha. Sì, non mi ha. Granata, hai lì paro. Granata! Oh, ho tirato il penito del granata. Sì, non mi ha. Sì, non mi ha. Sì, non mi ha. Sì, non mi ha. Eee, non. Cazzo, ho aperto le case per niente. Ho aperto le case per niente. Qua è la mappa, ma non viene più, non viene. È come le altre volte che gioco io col toro, ma non giocavo, è uguale. Ero zero, correvo zero. Con gli altri giorni sempre ho giocato, che io andavo lento, sempre. Sono due, tanto. Ecco, ce l'hai dietro, ce l'hai dietro, ce l'hai dietro. Non c'è, non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è. È pronto. Ah, oi. C'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. C'è, non c'è, non c'è. C'è, non c'è. C'è, non c'è. Oh. Il tascago. Vieno. Ha tirato un missile, hai parato, che mancava. Sì, peggio di te, non ci credo. Non ci credo. Non ci credo, non ci credo. Oh, stava a destra, stava a destra. Che varicca, stava a trasri. Non ci credo, non ci credo. Non ci credo, non ci credo. Non ci credo. Ecco un kit medico. Non ci credo, non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. vieni medicina bersaglio evidenziato il medico qui salvatemi ecco un kit medico granata in volo medicina ecco lo tento ecco un kit 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 gruppo 2 qui pugnale gli americani si ritirano bel lavoro ecco un kit 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 Sì, non sono arrivato, ok? Sì, ora vengo, ok? Sì, ora vengo, ok? Sì, ora vengo, ok? Ora vengo qui, ora vengo qui Fori Tempo Non c'è andare, non c'è cosa salvare Ecco quello dietro No, la coltellata Non so far male Se arrivo prima io come cazzo è possibile Ecco io ne che maggior villa mio Sono ecco io Cambio o no? Ecco io Ai so che sei messo Ssq Non cambio il nome? Il nome non, solo il equippo Invece a me mi ha agganciato te Invece a me mi ha agganciato te Si lo sa lo sa All'unica c'ha le case E perchè la gente immobiliare Senta dentro le case Dentro le case E' innamorato delle case Toda la casa che è bella Le la chiede via Ma vuole vivere A terra Ripeto soldato a terra A terra A 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